C'è anche un'italiana nel cast del prossimo film dedicato a 007 e la cosa forse non sorprende considerando che era stato già annunciato l'arrivo della truppe in Italia per girare almeno un mese tra le strade della capitale. Si tratta della bellissima Monica Bellucci, annunciata insieme al resto del cast della pellicola in diretta streaming dai Pinewood Studios di Londra, dove il regista Sam Mendes e la produttrice Barbara Broccoli stanno rivelando al pubblico titolo interpreti del film. La pellicola, finora nota con il generico nome di Bond 24, si intitolerà Spectre e stando a quanto dichiarato dalla Broccoli, Monica interpreterà Lucia Sciarra. Nel cast troviamo anche l'immancabile Daniel Craig, Ralph Fiennes, Christoph Waltz e Lea Seydoux nei panni di Madeleine Swan.